Domenica 22 aprile dalle 21 ritorna la corrida talenti allo sbaraglio non in tv ma al palco 19 di asti organizzata dal comitato palio santa maria nuova in collaborazione con prima radio serata evento con ballerini barzellettieri comici imitatori cantanti attori musicisti sei talento se sei o non sei un professionista iscriviti entro l'11 aprile una categoria è riservata ai comitati palio iscrizione 15 euro Domenica 22 aprile ritorna la corrida palco 19 di asti via ospedale 19 dalle 21 info la corrida dei grifoni et libero punto it o 0141 21 14 45 evento organizzato dal comitato palio santa maria nuova di asti